Fiori bianchi, un orsetto, messaggi e biglietti. Molti amici hanno pianto in Italia la morte di Marouane Benamer, il trentenne tunisino ferito, morte con un tagliaunghie, verso le 20 e 30 di sabato 16 settembre in questa tranquilla area residenziale di Busa di Vigonza. Il suo corpo, una volta conclusi gli accertamenti necessari, partirà oggi per la Tunisia, dove per desiderio della mamma sarà sepolto. Ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio, il fratello. Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri in carcere a Sanremo i presunti autori del delitto, due connazionali di 43 e 36 anni, che si sono costituiti in Liguria dopo una breve fuga all'estero. I due, che durante l'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, nei prossimi giorni dovrebbero essere trasferiti nel carcere due palazzi di Padova.